fratelli e sorelle carissimi che alla scuola del vangelo vi mettete ai piedi di gesù per un ascolto che dà la vita pace a voi commenteremo oggi un brano della parola del signore tratto dal vangelo di matteo al capitolo 16 versetti 13 20 recentemente abbiamo già commentato questa parola nella ricorrenza liturgica dei santi pietro e paolo legando il testo evangelico alla solennità dei santi apostoli oggi meditiamo questa parola nel contesto della lezione continua del vangelo di matteo che stiamo leggendo consecutivamente nel susseguirsi di queste domeniche dell'anno liturgico la regione territorio della scena evangelica è quella che sta intorno alla città a porto di cesarea di filippo siamo nel territorio della samaria gesù nella sua itineranza apostolica attraverso questa regione posta a nord della giudea annuncia la buona novella del regno è qui che in un momento di sosta quasi di riflessione gesù interroga i discepoli sulla sua identità il discorso è volutamente ampio gesù parte raccogliendo l'opinione della gente a suo riguardo la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo versetto 13 è il grande interrogativo che gesù pone ai discepoli riguardo la sua identità nonché la missione che sta compiendo identità e missione infatti sono discorsi indivisibilmente collegati tra loro riguardo la persona di gesù il parere della gente poi quello che gesù vuole come risposta dai discepoli si rivelerà equivoco fino all'errore la gente è massa anonima portatrice di opinioni spesso confuse o di pareri erronei ritenuti a volte verità assolute gesù contratto pedagogico vuole portare i discepoli ad una verità piena riguardo la sua persona raccogliere l'errore per portare alla verità sarà dunque il suo intento e il suo operato l'opinione della gente a suo riguardo si rivelerà puntualmente erronea il maestro è identificato con figure profetiche del passato di israele elia geremia o qualcuno dei profeti versetto 14 l'altro riferimento possibile per l'opinione della gente è la figura di giovanni il battista ultimo dei profeti apparso all'orizzonte religioso di israele tutte queste figure però sono riferibili al solo passato termini di paragone che fanno pensare ad un già visto che si ripropone alla storia attuale del popolo dell'antica alleanza per comprendere però chi è gesù occorre una risposta al presente siamo infatti nell'oggi di dio adesso è necessaria una risposta per una realtà attuale quella appunto di gesù solo chi è discepolo sa dare la giusta risposta riguardo a lui gesù lui infatti rivolto agli apostoli chiede loro ma voi chi dite che io sia la domanda rivolta a tutti trova nella risposta di pietro l'unica verità espressa in una comune opinione pietro infatti risponderà tu sei il cristo versetto 16 i discepoli sanno scoprire nella figura di gesù i tratti del messia l'unto del signore il suo cristo cioè consacrato il promesso dai profeti gesù non è uno dei tanti profeti apparso sulla scena religiosa di israele ma è bensì l'inviato l'annunciato da tutti i profeti questa è la probabile risposta storica che i discepoli diedero a gesù interpellati da lui chi è discepolo sa leggere profeticamente lo svolgersi della storia di salvezza fino a giungere alla persona di gesù vista e letta come compimento del disegno divino di salvezza questa comprensione messianica della figura di gesù sarà poi arricchita dalla fede pasquale che farà dire a ogni credente tu sei il figlio del dio vivente gesù non è solo l'inviato l'unto del signore ma è anche il figlio mandato a compiere attraverso il mistero pasquale la nostra salvezza il discepolo questo crede e questo proclama la risposta di pietro non sarà dunque un'opinione personale sulla figura di gesù ma piuttosto sarà la voce dell'intera chiesa che attraverso le parole dell'apostolo manifesta il suo credo sulla identità e sulla missione di gesù le parole espresse dall'apostolo saranno non solo parole di verità ma espressione di comunione pietro parlerà a gesù a nome di tutti i credenti facendosi voce di comunione dell'intera chiesa gesù dichiarerà pietro beato beato sei tu simone figlio di giona perché né sangue né carne te lo hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli versetto 17 la comprensione rivelazione del mistero di gesù non nasce dunque da fattore umano espresso nei termini di carne e sangue nasce piuttosto dall'alto e dono di rivelazione del padre che viene dal dio che è nei cieli accogliere il dono fa vivere al discepolo l'esperienza della beatitudine che nasce dalla fede ed è a partire da questa fede che gesù fa a pietro il dono di una potestà che sarà principio di comunione nonché fondamento del servizio apostolico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa pietro pietra nome della persona nonché per assonanza sostantivo che indica roccia sono messi in relazione tra di loro il nome nuovo indicherà la missione pietro sarà chiamato a divenire ogni giorno roccia sulla quale edificare l'esperienza di comunione che è la chiesa non sono i meriti o le capacità di pietro a far dire a gesù tu sei pietro ma è la sua fede in lui messia figlio di dio pietro si manifesterà con i suoi proclami puntualmente smentiti nel momento della prova esordirà con un triplice rinnegamento sarà poi la sua fede una volta ravveduto a ricollocarlo nel ruolo di colui che dovrà confermare i suoi fratelli a pietro saranno consegnate le chiavi simboliche del regno dei cieli con le quali potrà entrare e uscire nel mistero di dio rivelato a noi in cristo pietro custode come il maggiordomo di una casa delle chiavi affidate a lui dal suo signore chiuderà e aprirà con il suo servizio il mistero di dio ai fratelli questo noi crediamo dell'apostolo pietro e dei suoi successori nel ministero petrino svolto attraverso i secoli cristo ci introdurrà a dio aprendo le porte ai misteri divini pietro e i suoi successori saranno i custodi storici di questa porta e della sua chiave di verità e di amore che è il cammino di fede della chiesa con questa certezza possiamo credere e dire con gesù le porte degli inferi non potranno prevalere versetto 18 il nostro brano evangelico si conclude oggi con il versetto 20 è un ordine di gesù ai suoi non è ancora infatti giunto il tempo della sua rivelazione tempo rimandato al compimento degli avvenimenti pasquali adesso è ancora il tempo del silenzio del segreto dopo la pasqua e solo allora l'annuncio di salvezza sarà pieno del compimento del mistero e potrà essere portato a tutte le nazioni quale annuncio di salvezza dalla missione apostolica della chiesa chi continuerà così nel tempo il suo servizio di verità e di amore in attesa del glorioso ritorno del suo sposo e signore gesù cristo amen